... Taylor prova a disorientare Iacovic, si prende un tiro difficilissimo ma lo manda a bersaglio ... 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 Brandon Taylor in palleggio, si prende la tripla, nonostante la mano in faccia, ancora Candy, pronometro che scende a 5 secondi per trovare un tiro, Candy in angolo per Taylor, fa saltare De Nicolao, piedi a posto, Brandon Taylor, protagonista assoluto.